Al via Palma di Monteghiaro la nuova società che provvederà alla raccolta dei rifiuti si chiama Palma Ambiente, una società in house fatta dal comune di Palma che provvederà alla raccolta e allo sbattimento del pattume. Un impegno del sindaco di Palma Stefano Castellino è quello anche di aumentare la percentuale della raccolta differenziata, si mata attualmente all'8-10% e portarla a più alti livelli. Un altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione Castellino e dalla maggioranza che mi sostiene sin dall'inizio, sin dalla campagna elettorale. Era un obiettivo del nostro programma elettorale e questa amministrazione, come amo sempre dire, utilizza e crede nel programma elettorale sottoposto agli elettori che ci ha consentito di amministrare questa città e di vincere le elezioni. Uno dei punti qualificanti di quel programma era la gestione in house dei rifiuti. Brevissimamente abbiamo avuto il tempo e la norma a nostro favore per annullare quella gara. L'anno scorso o qualche mese fa abbiamo approvato il nuovo piano di intervento. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto di Palma Ambiente autorizzando il sottoscritto a compiere tutti gli atti conseguenziali per la nascita di questo nuovo soggetto. Finalmente Palma avrà una società interamente controllata a totale capitale pubblico del Comune di Palma per la gestione dei rifiuti. Consumato questo atto dal notaio che credo avverrà questa settimana se non all'inizio della prossima, chiederemo l'iscrizione all'albo gestione dei rifiuti. Dopo questo affideremo il servizio, come la legge ci consente, a questa società che sarà direttamente controllata. Quindi il percorso di crescita e di miglioramento del servizio finalmente potrà trovare il suo punto massimo, perché da lì si potrà realmente progettare un servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti efficiente ed economico. Sempre ieri abbiamo approvato la Tari. Siamo al terzo o quarto strumento proprietario del bilancio, tempi record che Palma sconosceva, e quest'anno, mentre i comuni vicinori si leggono di aumenti enormi, seguiti gli aumenti dall'anno scorso, Palma di Montechiaro l'anno scorso ha diminuito del 7,29% la Tari. Quest'anno la manteniamo invariata e con le economie realizzate dal servizio ingendiveremo sicuramente la differenziata, che già fatto piccoli passi avanti, nonostante siamo in regime di 191, perché questo è giusto dirlo, Palma ha un servizio, come tu avrai visto, di raccolta dei rifiuti che funziona. La differenziata non è ai livelli che auspichiamo, ma con Palma Ambiente faremo veramente quello che a Palma mai è stato fatto. E quindi abbiamo ereditato percentuali dello 0,80%, ridicole, siamo a una media dell'8-9%, ancora bassa, bassa, però capisci bene, il passo in avanti è notevole, il trend è cambiato, non solo. Ma devo ringraziare i miei concittadini che invito a proseguire su questa strada. Abbiamo realizzato il migliore incasto della Tari degli ultimi dieci anni. Palma vuole rialzare la testa, Palma Ambiente è un passaggio storico in questo processo, perché sarà la più grande municipalizzata della storia di Palma, che vado a memoria e che io possa ricordare. Sceglierò in piena autonomia, per come prescrive la legge, i membri del CDA che guideranno questa nuova società, ai quali è demandato sotto la nostra supervisione una parte importantissima del futuro della nostra comunità.